un caro saluto amici del canale youtube alla vigilia di inter juventus tempo da lupi o come diceva un mio amato generale generale battisti nei tanti anni in cui ho prestato servizio come speciale riservista dell'esercito tempo da soldati e bologna milan è stata rinviata per mal tempo giusto sbagliato che sia ma c'è inter juventus nel momento in cui parlo con questo tempo da soldati io non ho neanche la tettoia ma figuratevi se ho paura di quattro gocce nel momento in cui parlo io non so ignoro completamente il risultato di napoli lecce so che si sta giocando e so anche cosa mi aspetto anche se spero di sbagliarmi una vittoria comunque del napoli e quindi inter juventus diventa uno scontro diretto e anche l'occasione per una delle due di stare se è possibile appiccicata insomma al napoli oddio poi in caso di pareggio e in caso di vittoria del napoli che io ripeto al momento non so entrambe le formazioni perderebbero terreno inter juventus è sempre stata una sfida non me ne vogliano i milanisti anzi se non ci fossi io che sono cresciuto con l'avvocato prisco a sentire molto di più da milanese di generazioni il derby di milano di inter juve potremmo dire insomma che ormai il confronto col milan nella quasi totalità degli interisti perché quelli di milano poi sono pochi perché l'intere fratelli e sorelle nel mondo quindi sono interisti dovunque c'è la vera rivale saranno i veleni degli anni di calciopoli eccetera saranno altri veleni negli anni sessanta è la juventus è la juventus da sempre una sfida quella tra inter e juve che non si è consumata sempre solo in campo ma si è consumata molto sull'estracampo su quelli che a me non piacciono sui veleni che figuratevi sui social prendono ovviamente nuova linfa però io ripeto sono cresciuto con l'avvocato prisco e quindi sento più la partita col milan vi deluderò ma essendo cresciuto avendo fatto la mia tesi di laurea tutto il mio percorso nello studio prisco ma la juve chi se ne frega della juve giustamente mi diceva l'avvocato io sono cresciuto che in fondo vedo la juve un po come quelle cose che sono state per anni cioè il potere un po malvagio la democrazia cristiana le strisce pedonali cioè quelle cose o il traffico cioè quelle cose che ci sono e che complicano la vita ma proprio perché ci sono queste cose che la complicano come la juve tutto sommato la vita è anche più bella la mia vera rivalità ripeto sportiva è sempre stata con i rossoneri che però non giocano e quindi non posso dire niente però è indubbio che inter juventus sia rivalità in campo rivalità extra campo anche velenosa ma c'è anche una rivalità sul mercato e per questo io alla vigilia di inter juventus ho commissionato e poi lui l'ha fatto lunghissimo un meraviglioso brano di mercato di quello che piace voi a nicolò schiera perché qui voi pensate che si parli solo di jonathan david un nome no l'attaccante del lilla sul quale insomma abbastanza comprovato che inter e juve ma non solo si sfidino ma in realtà sentirete da nicolò schiera anche altri territori anche altre zone di influenza anche altri nomi che in questo momento insomma interessano sia l'inter che la juve sapete no anche i casi ne parla schiera di tiago giallo meno male che è andato da juve di cabal nessuno ha pianto ma insomma c'è dell'altro c'è dell'altro e quindi vi voglio lanciare naturalmente nico schiera per inter juve sul mercato però una cosa la voglio dire senza entrare nelle scelte di inzaghi perché non lo faccio mai in queste ore sembra sempre esserci la sempre di più la possibilità che sia aslani sostituto naturale a giudizio di inzaghi aslani dal primo minuto a sostituire cialanolu che sapete non è disponibile allora io capisco che aslani prima chiuso da brozovic poi chiuso da cialanolu da due mostri sia arrivato all'inter effettivamente nel giugno 2022 e se andate a vedere i primi 90 minuti da titolare li ha fatti solo nel gennaio 2024 di quest'anno fiorentina inter 0 1 dove tra l'altro credo sia proprio lui che fa il passaggio all'autaro per il gol vittoria cioè praticamente è stato qui un anno e mezzo insomma rosichiando minuti qua e là e molti hanno detto vabbè ma perché non è un giocatore di livello non è un giocatore da inter io credo che invece come tutti quelli di cui mi chiedono i giovani palassi ognuno deve avere tempo appunto come palassios per crescere per trovare le rotazioni certamente in zaghi non è uno che ti butta nella mischia se non sei pronto ecco quello che però la percezione che aslani alla fine sto salto di qualità non riesca a farlo allora io non so se poi giocherà aslani o l'ultimo momento invece vedremo barella zielinski e michitariano frattesi a centrocampo però dovesse toccare ad aslani non mi tiro indietro dico che è una grande occasione questa anche per convincere i molti perplessi una grande partita di aslani nel derby d'italia potrebbe far cambiare un pochino anche l'opinione che sia su di lui ma adesso al di là di aslani al quale ho dedicato mezza copertina l'altra mezza copertina che è dedicata appunto allo scontro eterno sul mercato tra inter e juventus nico schira a te un saluto all'amico gianluca rossi e tutti gli amici del canale gianluca rossi tv per aggiornamenti di mercato in vista del derby d'italia inter juve è sinonimo anche di scontri di mercato tra piero ausilio e cristiano giuntoli gli ultimi due duelli se gli ha giudicati il bianconero che ha soffiato tiago giallo e cabal non che l'inter si sia disperata soprattutto sul rendimento del portoghese tiago giallo che è stato praticamente nullo per mesi adesso sta provando a rilanciarsi al porto in prestito cabal è un giocatore che piaceva all'inter per completare la difesa poi è arrivato palacios cabal che poi è andato alla juve che ha rilanciato l'inter pensava di chiudere 6 7 milioni la juve l'ha pagato addirittura 12 e quindi ci saranno nuovi duelli di mercato la sensazione che le strade si incroceranno di nuovo perché perché ad esempio la juve sta seguendo bonnì che è un attaccante che sta seguendo anche l'inter emergente classe 2003 sta facendo molto bene a parma il suo agente federico pastorello che ha ottimi rapporti con l'inter e che con l'inter si dovrà sedere nei prossimi mesi per discutere dei rinnovi entrambi su una scadenza di contratto di stefan devrai e di francesco acerbi per acerbi c'è una promessa di un rinnovo annuale sino 2026 con l'opzione per il 27 con devrai si era parlato di un possibile biennale essendo più giovane l'olandese ha 32 anni va per i 33 mentre acerbi di anni ne ha 36 e va per il 37 quindi discorsi ovviamente diversi da discutere da valutare da analizzare ma è chiaro che un affare può tirare l'alto ma soprattutto inter e juve si sfideranno sperando che poi non arrivi il terzo incomodo più danaroso più ricco dall'estero per jonathan david perché l'inter è la prima che si è mossa su jonathan davide c'erano già stati contatti a marzo dell'anno scorso piace tantissimo certamente jonathan david non costa poco è vero è un parametro zero ma sei milioni all'anno per cinque anni sono 30 netti 60 lordi quindi un'operazione importante più una commissione da 10 milioni alla gente non finisce qui perché perché anche la juve è molto interessata jonathan davide la juve ottimi rapporti con lille ma la juve non può prendere il giocatore già a gennaio come ha fatto l'anno scorso con tiago giallo anticipando i tempi perché non ha lo slot da extra comunitario l'inter c'era al post quindi l'inter volendo l'operazione la potrebbe anticipare la juve no questo è un vantaggio per l'inter vedremo certamente l'inter su david fa sul serio ma anche la juve chi è uno dei migliori amici di jonathan david e giocava anche well hill e timothy wea che sta cercando di fare da cupido per convincere il canadese a trasferirsi in italia nella torino bianconera dove forse potrebbe avere più spazio perché david alla juve potrebbe essere la prima alternativa a vlaovic ma anche l'erede di vlaovic se vlaovic dovesse andare via in estate mentre all'inter con lautaro e turam gli spazi sarebbero un pochino ridotti e quindi la sensazione è che qualcosa possa in qualche modo poi da questo punto di vista incidere nelle valutazioni però l'inter piace molto l'inter oggi ha un standing superiore rispetto alla juve è un progetto in costruzione quello della juve l'inter è già una realtà affermata quindi già pronta per vincere questo può anche incidere nelle valutazioni l'aspetto economico sarà preponderante ma certamente inter e juve sono pronte a sfidarsi sono pronte a incrociare i duelli di mercato anche su altri giocatori ne stanno seguendo tanti in comune a entrambe ad esempio è stato proposto a luiz felipe che presto farà la risoluzione del contratto con la litiad saranno svincolato alla juve può servire un difensore non è un nome che scalda giuntoli ma all'inter potrebbe essere utile per completare e ingiovanire la difesa dovesse andar via uno tra cervi ed evrai in caso di mancato rinnovo occhio questa pista perché luiz felipe è esploso è diventato un giocatore importante alla lazio sotto la guida di un certo simone inzaghi che all'inter adesso ovviamente ha tanta forza e voce in capitolo anche nelle decisioni e nelle strategie di mercato e quindi alla fine è sempre derby d'italia sul mercato ma sarà soprattutto derby d'italia domenica alle 18 a san siro in campionato perché chi vince diventa l'antinapoli e soprattutto continua la corsa verso lo scudetto chi perde rischia un pochino già di essere in difficoltà quando siamo solamente a fine ottobre direi che tutto palla a te gianluca e io riprendo volentieri la palla caro nico schiera grazie per questo viaggio nel mercato insomma inter juventus ormai ci siamo viva l'inter ragazzi solo questo vi posso dire viva l'inter per me è quello che conta più del mercato dei veleni è sempre il campo e quindi mi auguro veramente di poter festeggiare un grande successo dell'inter ciao a tutti beh 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 v��� v v v Grazie a tutti.